Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 dei migliori divani. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i linei prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo alla top 3 dei migliori divani. Quindi cominciamo con il divano Tottopiccini. Iniziamo questa classifica con il divano Tottopiccini, un piccolo divano perfetto per chi non ha una casa molto grande e per chi ha bisogno di un secondo divano su cui sedersi. Questo divano è un'ottima scelta perché è economico, il rapporto qualità prezzo è eccellente, il tessuto è di alta qualità e il comfort è davvero ottimale. Ci piacciono anche molto i colori disponibili, infatti sono disponibili molti colori e sono davvero belli e originali. Poi troviamo il divano Zeno, passiamo a un modello molto più sofisticato con questo divano di zero. È un divano più grande e si può scegliere la dimensione al momento dell'acquisto. Inoltre la qualità è molto migliore rispetto al primo modello ed è un divano che durerà per tutta la vita. Ci sono anche più di 10 colori disponibili per l'acquisto e i colori sono lussuosi e ben fatti. E per finire ecco il divano Chris. Per concludere questa top ecco il divano di fascia altissima di Chris. Questo magnifico divano è della stessa marca del modello precedente, solo che questo è un divano retto e quindi molto pratico da installare in casa in quanto consente di avere un letto di riserva se si ha bisogno di invitare persone a casa propria ad esempio. L'aspetto positivo è che si tratta di un divano angolare e al momento dell'acquisto si può scegliere da quale lato si desidera che l'angolo sia. È possibile scegliere anche le dimensioni del divano. Anche in questo caso sono disponibili molti colori al momento dell'acquisto. Ecco grazie per aver seguito questa top 3, spero che ti sia stata utile. Non esitare a mettere un like, un commento ed iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link dei prodotti e le migliori offerte nella descrizione. Puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.